Never was a story, a more woe than this, of Juliet and her Romeo. Nella serie tv Homeland, ebbene Lewis, inglese di nascita e grande appassionato di teatro, nonché di Shakespeare, ha parlato del suo coinvolgimento nel progetto. Mi ricordo quando facevo io Romeo, continuavo ad ascoltare Lord Capuleta e pensavo non ho il ruolo migliore, penso che è lui, è un ruolo nel canone di Shakespeare. Per me è stato davvero divertente questo personaggio così tirannico, comico, entusiastico. Carlo Carlei, il regista, ha invece rivelato una notizia misconosciuta e più, e cioè che la storia di amore tra Romeo e Giulietta venne in realtà tramandata oralmente da un italiano e poi giunse fino a Shakespeare. Da italiano voglio aggiungere un'altra cosa, che penso che sia molto importante per voi. Il Romeo e Giulietta di Shakespeare è stato in realtà un remake, perché Giovanni Bandello aveva scritto la storia 200 anni prima. Shakespeare ha letto un adattamento francese del racconto di Giovanni Bandello, che era stato tradotto in inglese da francese. E con la sua arte immortale ha creato un capolavoro, ma Giovanni Bandello ha basato la storia di Romeo e Giulietta su una storia di tradizione orale che probabilmente risariva al 1200. Quindi Shakespeare è stato solo una parte di una lunga catena di persone che hanno celebrato e sono passati dall'uno all'altro questa storia immortale. Il modo in cui è stato scritto il copione mi ha consentito di approfondire la sensibilità di ogni personaggio, anche personaggi che molti considerano secondari. Io volevo ciascun personaggio in questo film partecipare a questa storia d'amore, che diventa poi una tragedia, in un modo molto emotivo. Volevo un grosso coinvolgimento, li volevo testimoni di questa storia incredibile, che è un paradigma delle differenze fra il mondo degli adulti, un mondo molto pragmatico e un mondo idealistico e di sogno dei giovani, dei ragazzi. Shakespeare è stato riscritto continuamente, non c'è mai stata una versione cinematografica di Shakespeare che non abbia comportato una parte di riscrittura. Quindi il mio compito non era assolutamente nuovo, è solo trasformare qualcosa in qualcos'altro. Noi, come ha già sottolineato Damian, noi volevamo andare al di là dello studioso o studente di Shakespeare per raggiungere non solo i giovani che potessero divertirsi, a cui potrebbe piacere se una volta aiutate a comprenderlo meglio, ma anche volevamo raggiungere tutte quelle persone che si intimidiscono di fronte all'idea di Shakespeare e speriamo non si intimidiscano di fronte a questo prodotto qui. Abbiamo cercato di esprimere questa innocenza che un po' avevamo, abbiamo cercato di creare le cose sul momento, fare le cose un po' come venivano giorno dopo giorno. Molte delle cose in Shakespeare ci sono tante cose in cui ti spiegano quello che succede, non avevano una luce, non avevano una scenografia, spesso ti dicono cosa sta succedendo, sono descrittive, ma il linguaggio cespiriano è così splendido, così bello, che ti devi preoccupare solo del senso profondo di quello che significa, dal di dentro, a quel punto non importa tanto la tecnica. Io non ho dubbio. Tu sono dovuta a morire! Dio me mio romeo e quando morrò, corta l'ho in piccola. Stas, e lo fareà il face di Heaven così bene che tutto il mondo sarà in love with night.